Oggi inizia nuova avventura con Auto Agency, eccolo, pronta Fede? Sì, cominciamo! Bene, siamo tutti pronti, oggi inizia un nuovo progetto insieme a Auto Agency dove andremo a ridefinire, rivedere, riragionare tutta la nostra parte web quindi la parte dei nostri siti internet, la parte delle nostre divisioni con tutto un ragionamento in funzione dei posizionamenti di mercato, in funzione dei competitor in funzione di tutto quello che serve per essere trovati in internet e d'accordo con Giorgio, visto che non ci facciamo mai mancare niente l'idea è quella di realizzare anche una puntata dove step by step vi spiegheremo tutto quello che serve per arrivare al top con il vostro sito internet e la vostra immagine coordinata con tutto lo staff di Auto Agency e con tutta la loro esperienza Cominciamo! Ovviamente restate collegati per i prossimi aggiornamenti Ciao!